direttore venga a vedere morena invia le pattuglie pronto è la cesta il buongiorno sono marco buongiorno marco è scattato l'allarma esterno fronte e il sistema di videosorveglianza ha evidenziato un'intrusione nella sua proprietà abbiamo già inviato le guardie ok mi tengo informato a dopo cosa succede un tentativo di intrusione in casa mia e non sei preoccupato no ci pensa la cesta pronto sono marco della cestel marco mi dica il caso è stato risolto è entrato nella proprietà ma non all'interno della villa abbiamo arrestato l'intruso è tutto regolare ottimo lavoro grazie marco grazie a tutti